Se il governo dovesse procedere senza ascoltarci, noi utilizziamo gli strumenti che abbiamo non per difendere semplicemente i lavoratori, ma per l'idea di paese che abbiamo, dove la strada non deve essere quella che per risolvere i problemi si licenziano le persone. Per risolvere i problemi si investe sui giovani, sulle donne, sul lavoro e si ragiona in modo diverso. Queste sono le nostre proposte e gli strumenti di sostegno non escludiamo nulla, ma non è che noi siamo innamorati di doversi operare, noi vogliamo risolvere i problemi, se questo non avviene decideremo che cosa fare.